Avevano un valore complessivo pari a 14.000 euro e 700 capi di abbigliamento contraffatti riconducibili a note case di moda, ma anche serie tv, videogame e programmi youtube per teenager e bambini sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pesaro nell'ambito di un'operazione portata avanti presso la zona di San Decenzio, dove si svolge ogni settimana il mercato cittadino. Le Fiamme Gialle, infatti, impegnate in un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione al contrasto degli illeciti nei prioritari settori di polizia economico-finanziaria del corpo, hanno notato e sottoposto a dispezione un ambulante intento a vendere prodotti recanti segni distintivi e anche marchi contraffatti. La persona fermata è risultata già essere gravata da pregiudizi di polizia nello specifico settore di intervento, per cui le operazioni si sono estese anche alla sua abitazione, dove hanno trovato analoga merce in deposito. Il responsabile è così stato deferito all'autorità giudiziaria per violazione degli articoli 474, ovvero introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e 648, ovvero ricettazione. I presidi di vigilanza attivati dalla Guardia di Finanza, fanno sapere dal comando pesarese, vengono costantemente orientati alla tutela e al supporto del sistema imprenditoriale più virtuoso presente sul mercato, che caratterizza le più insediose fenomenologie criminali, volte proprio all'inquinamento del mercato con l'immissione di merci contraffatte, prive di requisiti di conformità o dei presupposti di origine dei prodotti stessi, che sono in realtà garanzia di qualità.